Lavori, ampliamenti e innovazione. Sono queste le parole d'ordine per i lavori che stanno investendo in queste settimane l'ospedale Magalini di Villafranca. Si sta lavorando, come spiegava il direttore dell'Ulss9, Scaligera Girardi, nella conferenza online, per ampliare la terapia intensiva e permettere di aprire o chiudere posti a seconda delle esigenze dei pazienti, da quelli Covid ad altre patologie. I lavori sono stati resi possibili grazie ad un finanziamento di 4,8 milioni di euro del Piano Arcuri, il programma di riorganizzazione delle reti ospedaliere. Di questa somma, più della metà sarà utilizzata per far passare la terapia intensiva da 10 a 20 posti letto e per ampliare anche i posti della terapia semi-intensiva. Il primo intervento è già iniziato e si concluderà entro giugno. La terapia intensiva non sarà più quindi un grande stanzone unico, ma caratterizzato da zone di isolamento attraverso moduli. Questo permetterà anche di liberare i settori convertiti oggi per la lotta al Covid, ma dei quali occorre ripristinare la funzionalità affinché il Magalini torni ad essere a servizio per tutta l'utenza. Tra le novità, anche il nuovo primario per il reparto di pediatria dell'ospedale Villa Franchese è il dottor Alessandro Bodini, proveniente dall'azienda ospedaliera di Verona. Il reparto di pediatria, chiuso al Magalini causa Covid, sarà riaperto il prossimo 12 aprile.